Musica Attivo la carta magia con tratto oscuro con assicurazione infernale Con questa carta posso pescare un numero di carte pari al numero di mostri che non sono stati distrutti durante questo turno Guarda attentamente, lo che ho appena pescato è il mio portfolio supremo Attivo la carta magia fusione DDD e la uso come materiale per fonderla con Armageddon Evocazione per fusione! Nasci, livello 10, DDD Armageddon Violaceo, re del super destino! Poi attivo la carta magia sincro DDD Sincronizzo questa carta come un mostro tunnel di livello 2 con Armageddon di livello 8 Evocazione sincro! Nasci, livello 10, DDD Armageddon candido, re del super destino! Infine attivo la carta magia Xyz DDD ed evoco specialmente 2 Armageddon dal mio extra tech Poi sovrappongo i miei 2 Armageddon di livello 8 Evocazione Xyz Nashi, rango 8, DDD Armageddon oscuro, re del super destino! E con il suo effetto uno degli Armageddon del mio extra tech diventa un suo materiale Xyz Se volevi che io ridessi dal profondo del mio cuore Ho preparato questa difesa ferrea Che tu dovrai rompere! Che tu dovrai provare! Grazie.